Per il 2019 avremo una nuova piastra che abbiamo denominato M9, è l'evoluzione della piastra in alluminio M8 ma ha diverse nuove funzionalità oltre una nuova estetica. L'estetica però è funzionale, vi spiego perché. Ovviamente è tagliata laser dall'alluminio, foglio di alluminio, leggermente più sottile quindi è più leggero, una migliore distribuzione delle linee di forza perché con la stampata, vedete questi inserti, questa imbutitura si chiama tecnicamente, permettono di disperdere meglio le forze e le vibrazioni e di conseguenza elimina quasi completamente il rischio di micro fratture. Abbiamo oltretutto un'innovazione che sono i gommini che noi chiamiamo bicchierino, ovvero il gommino in sé è inserito in un bicchierino di plastica, un micro contenitore di plastica che oltre a ridurre le dimensioni aiuta anche a contenerlo, di conseguenza non si schiaccia più come prima e dura di più nel tempo. Questa è la piastra M9 in alluminio, l'abbiamo in alluminio anodizzato come vedete qua, in colore silver oppure anche disponibile in nero. Grazie a tutti!